che per competenza ha in mano questa cosa, sarà suo compito trovare i modi anche all'interno dell'amministrazione per uscire un po' dai silos e quindi per contaminare con queste logiche un po' anche gli altri, perché l'assessore del lavoro pubblico è interessatissimo all'amministrazione condivisa quando deve andare a definire una serie di altri aspetti, con la urbanistica pure, quello al bilancio sia furbo e più interessato di tutti, Daniele Marchi che è l'assessore al welfare del comune di Reggio Emilia, ma è anche l'assessore al bilancio quando partecipiamo a queste cose dice sempre, guardate mi sembra strano, ma a me far bene questa roba interessa di più nella mia resta di assessore al bilancio, che è quella di assessore di salvezzi sociali, perché mi rendo perfettamente conto che se facciamo bene questo tipo di lavoro, quei miei soldi lì valgono il triplo, possono valere il triplo di quelli che valgono oggi, come assessore al bilancio col compito lì, quindi è un esempio, ma avere qualcuno davvero dentro le organizzazioni, che soprattutto nella prima fase dell'amministrazione condivisa, perché siamo un po' pionieri di sta roba, è vero che la facciamo dal 90, ma nella forma in cui è oggi siamo pionieri, siamo i primi che la mettono in alto, che si forma un po' a usarla bene, secondo me questa fase può essere utile, quindi quello che state facendo stamattina non è tempo perso, sono molto colpito dalla vostra grande attenzione, perché non sto parlando, ma spero che poi vi serva e possa essere sviluppato anche in quella direzione. Facciamo 10 minuti di pausa, ci ritroviamo qui anche un quarto d'ora, ci ritroviamo qui alle 11.45 per il giro finale, dove vedremo nel dettaglio un po' come funzionano le procedure, risponderemo alle questioni parlandone e ci saranno altri consigli di posto. Grazie.